ciao tostine belle come state? come state? io ovviamente spero che vada tutto 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 molto 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 benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in un nuovo video oggi come avrete detto guarderete il vostro video preferito ossia quello dei preferiti del periodo e ho da farvi vedere un bel po' di cose e questa volta vi farò vedere proprio in azione alcuni prodotti di cui voglio parlare infatti inizio subito dicendovi che il video dedicato ai film e le serie tv saranno come sapete dopo in un video a parte le dico un intero video a questa sezione per due motivi ve lo dico sempre il primo perché non tutti sono interessati per quanto riguarda appunto questo tipo di contenuti quindi non voglio fare annoiare nessuno e il secondo motivo è perché ne vedo veramente tante di film o serie tv e quindi preferisco a separare le due cose allora voglio iniziare subito con il mostrarvi dei prodotti che sto utilizzando per la mia routine giornaliera estiva e adesso vedrete un video registrato a parte dove vi mostro struccata la mia routine che sto facendo e per farvi vedere i prodotti in azione ho deciso proprio di farvi vedere nel momento in cui li applico quindi adesso vedrete questo breve video e poi vi do anche un codice scotto ed eccomi qui un postfat per mostrarvi in diretta la mia skin care del periodo e sono molto curiosa di mostrarvi un nuovo prodotto uscito da pochissimo ma che io sto testando da un po' perché come sapete sto collaborando da un po' di tempo con gli Epoda e mi hanno gentilmente inviato in anteprima per provarlo questo nuovo prodotto che tra poco vi mostrerò in azione allora per prima cosa io detergo il mio viso con il De Calma Palma e che sarebbe il detergente quello lì il balsamo all'olio d'oliva che io adoro è buonissimo ve l'ho mostrato altre volte nei preferiti del periodo e poi il Bobble Double che è perfetto appunto per la doppia detersione però vabbè se vi dovessi far vedere tutto non finire mai quindi dopo averlo davato il viso io applico innanzitutto questo è il secondo che utilizzo ed è quasi finito anche questo devo coordinarli un altro ed è il demi-step mi piace troppo questo qui è perfetto per la pelle secca e vi faccio vedere questo qui l'ho usato nel roleplay bastano pochi spruzzi si è un contenacido ialluronico e vi rimarrà la pelle idratata tutto il giorno e lo vado ad applicare vabbè la sensazione è piacevolissima soprattutto in estate quindi ha un profumo tipo limonato mi piace tantissimo quindi dopo aver applicato questo lo lascio un po' asciugare e sto applicando successivamente questo che è il nuovo prodotto in casa Iepoda questo qui li tengo in frigo perchè mi danno ci danno un effetto ancora più riafrescante in realtà sono già freschi però è una goduria cioè possono andare in frigo quindi lo faccio e sono questi nuovi peggio occhi che vado ad applicare subito mentre vi spiego vi voglio farvi vedere anche all'interno come si presentano appunto all'interno di questa giara ecco li qui ne escono un bel po' vedete e li andiamo ad applicare questo si chiama The Poof Eye The Poof Eye Express ecco basta tenerli in posa a 15 tenerli in posa perchè sono due 15 minuti ecco ecco inoltre vuol dire ad avere un effetto sconfiante e perchè all'interno c'è sia caffeina che che te perde sono sono ottimi anche per far durare di più il collettore quindi vabbè adoro nell'immediato danno subito un effetto rinfrescante però appena li mettete su sentite questa non lo so un effetto rinfrescante e il loro potere è quello di sconfiare le borse e ridurre le occhiaie quindi come vi ho detto i miei ingredienti sono caffeina e te perde caffeina e te perde e migliorano e fanno sì che il collettore cioè a parte migliora l'applicazione del collettore ma fa sì che dura anche molto di più e vabbè li adoro questi vanno in posa 15-15 minuti vi ricordo il nome di debuff espresso e la confezione come tutte le confezioni epoda sono molto belle e questo vabbè potete usarlo di giorno prima di andare a dormire quando volete io li applico anche dopo essermi esposta al sole passati i 15 minuti rimuoviamo i pezzi ci facciamo anche un po' di suoni perché ovviamente ci facciamo anche questo è un nuovo prodotto in realtà ma ve l'ho già ho fatto vedere nel roleplay questa crema contorno l'occhio contorno occhi anche questa perfetta per il giorno o per la notte questa qui ecco anche questa usata nella classe al spa e ha un effetto slow aging questo è perfetto in combinazione con i patch che vi ho mostrato prima e questo oltre a sgonfiare le occhiaie ha un potere davvero molto forte per quanto riguarda l'idratazione di questa zona qui quindi e poi come già vi dissi questa è l'alternativa naturale alla pava di lumaca e infatti la composizione praticamente la texture uguale praticamente la texture uguale guardate è gelatinosa vedete collosa l'impasto veramente poca 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 e andiamo ad applicare andiamo ad applicare in tutta la zona anche qua va a finire un po' comunque vabbè poi vabbè la mia amata crema che sta per finire questa è la crema che sto utilizzando per il viso sempre di Epodalt make me the cream anche questa super super idratante questa per la pelle cioè questa è la pelle per tutti i tipi di pelle e perché perché non è grassa ma idratata quindi questa è la consiglio proprio per tutti tutti i tipi di pelle adoro questo suono ci tengo tantissimo la skin care ha una buona skin care soprattutto quest'anno che mi sto esponendo un po' di più al sole sempre con protezione ovviamente ma la pelle va sempre diversa bene idratata bene soprattutto in estate per finire voglio mostrarvi un altro prodottino questo qui che è il multi palma sempre di Epoda io ho scelto la colorazione di cui non ricordo il nome vediamo non mi ricordo è bello scritto da qualche parte comunque questo qui è perfetto è perfetto va bene sia per colorare sia per colorare le labbra sia per colorare insomma che funziona ombretto sia potete utilizzarlo come blush lo trovate in diverse colorazioni è super idratante e poi tipo cioè faccio un esempio potete ecco applicarlo anche sui occhi quando non avete voglia di truccarvi però volete dare un po' di colore ecco bene ho messo davvero poco cioè guardate ne ho messo pochissimo però ovviamente tutti i prodotti che vi ho mostrato sono tutti naturali ma questo palma è bellissimo guardate bene stelline ora ritorniamo al resto dei prodotti che devo farvi vedere ma prima vi darò un super codice sconto una promozione davvero vantaggiosa quindi come avete visto questi sono i prodotti che sto usando per quanto riguarda la mia routine è un codice sconto per voi se siete interessati ai prodotti di epoda devo dire che questa promo è davvero molto molto vantaggiosa infatti con il mio codice black mist avrete il 30% di sconto con spesa minima di 79 euro e regalo la mini size del mister che ve l'ho fatto vedere anche nel nel video clasher spa insieme anche alla crema contorno anche per il viso e sono prodotti che sapete ve ne sto parlando da un po' mi piacciono tanto quindi potrete provare la misstep grazie a questo codice e a questa promo quindi sono anche molto curiosa se provate qualcosa quando provate qualcosa e se provate qualcosa mi fa piacere quanto me lo comunicate perché sono molto contenta quando seguite i miei consigli e soprattutto vi trovate bene quindi ecco questi erano i prodotti della mia routine poi passiamo ai prodotti cibo so che anche questa sezione mi piace molto e inizio con una cosa molto golosa ossia questi little mochi questi little mochi ne trovate di altre varianti ci sono tanti gusti io per il momento ho provato questi a cioccolato se li comprerete li proverete mi raccomando quando certo una volta cacciati dal frigo fateli stare infatti c'è scritto almeno 5 minuti fuori per avere un'esperienza ancora più goduriosa ma sono veramente tanto tanto buoni poi io sono innamorata dei mochi infatti prima o poi vorrò provare anche offerti a casa sono con ripieni di cioccolato belga questi qui e ne escono 6 se non erro no si 6 mochi buoni, buoni super consigliati buoni, buoni super consigliati E poi, vabbè, mi sono innamorata di questa, questa la prendo al gonad, ci faccio colazione la mattina oppure lo uso come spuntino con un'altra cosa che tra poco vi faccio vedere Comunque questo burro d'arachidi, di sapori, sapori della gonad, è fatta con 100% di arachidi ed è molto 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 buona L'ho fatta scoprire mio fratello E mi piace tanto, tanto, tanto Ultimamente sono sviluppato una passione per il burro d'arachidi Come avete notato, anche le patatine vi faccio vedere Della fiorentina al burro, 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 burro di arachidi Vi faccio vedere anche un'altra cosa Io ho scoperto questi salatini, questi crackers a riso, 100% riso che sono buonissime Adoro fare degli spuntini con questi qui Quindi questi Poi spalmo il burro d'arachidi E poi frutta Oppure marmellata di merdelli Sono buoni anche da soli però Per fare uno spuntino più completo Lo faccio come piove a detto Questi li trovate tranquillamente al supermercato Non sono nemmeno troppo salati Mi sono piaciuti tanto E che ho ricomprati Infatti questo è il pacco nuovo Poi Ha una cosa che adoro e di cui faccio scorpacciata Quando c'è alla Lidl, la settimana asiatica Sono i noodles I miei preferiti sono questi Al grano Saraceno Adoro i noodles Li mangio davvero spesso E li preparo sempre Per la mia famiglia E anche per il mio ragazzo Cioè me li chiedono Perché Mi piacciono molto anche loro Anche come li cucino E quindi Quando li trovo Li prendo tantissimi Tanti panchi E poi Adoro Perché Soprattutto in estate Fa caldo E stare Tanto tempo vicino ai fornelli Non è il massimo Nonostante Accendere l'aria condizionata O stare vicino all'acqua Che bolle Tanto tempo Non è appunto Super piacevole Quindi E' un'ottima opzione Per me Mangiare i noodles Perché sono pronti Sono tre minuti E li trovate anche In un'altra versione Cioè in realtà anche Noto che Più basso il tempo Più Ne portano Diversi tipi Però vi faccio vedere I miei preferiti Quelli che mangio Più spesso Quindi Questi al grano Saraceno E questi qui Al riso Che Allora Quelli al grano Saraceno Non li ho mai visti Da nessuna parte Questi al riso Si trovano Anche in altri Supermercati Ma Costano di più Comunque E invece A dietro Costano di meno Sono buoni Quali Quindi Compine Poi Ho finito Con la sezione Fibbo E passiamo Alla sezione Makeup Allora Faccio vedere Il mio acquisto Che è Questa matita Dell'astra Che ho preso Su Douglas Vi dico subito Il colore Vediamo Numero 36 Questo qui Lo cercavo Da un po' Questo colore Mi piace tantissimo Ve la vedrete presto Indossare In un video Sicuramente Define Lips Vabbè L'animentri Sono Questi pennelli Che sto strautilizzando Che ho portato Anche in vacanza E ve ne ho parlato Nel penultimo video Il get ready Mi ve li ho fatte vedere In dettaglio Vi ho lasciato anche Il link In infobox Di questi pennelli In quel video E mi ci sto trovando Molto bene Una ragazza Le ha comprate E sono contenta Che anche lei Si è trovata bene Ed è Insomma Sono risultati Fedeli Alla mia recensione Quindi Sono morbidi Eccetera Questa poscettina Fa un topping Molto molto bello No Il penultimo video Quello di Ever Troppo Vabbè Con quel get ready with me Poi Passiamo Alla sezione Smalti Allora Queste sono Le unghiette Che faccio da sola Ormai Da tempo Le ho fatte Trasparenti Poi Metto il colore Che voglio Adesso Su questo Questo qui Che è un po' Speccato Perché ce lo do un po' Comunque Ecco Così siete meglio E ho preso Sempre da Douglas Questi Questi due Smaltini Qui Mi ci trovo Benissimo Sono una scoperta Magari Ti avessi conosciuto Prima Sono i rimmel 60 secondi E si asciugano Tappero Velocemente Prometto Un'asciugatura Rapida Ed è così Per me Che non ho molta pazienza Con gli smalti Sono top E Questo è un attimo Per cui Mettevo il colore Col gel Perché Non mi va proprio Di starli Uri Ad aspettare Che si asciughi E poi Non si asciuga Nemmeno come vorrei Molti smalti Non mi piace Come rendono Un po' La fine Questi invece Mi piacciono Tantissimo Ho optato Ovviamente Per il nero Vediamo se c'è Il numero 900 Rita Splecca Questo qui Ovviamente Non potevano Prendere Uno smalto Nero E poi Questo che ho su Perché è un bianco latte Vediamo se c'è Il colore Sì 700 18 18 Chissà Sei loro Questi Stupendi Si chiamano appunto 60 seconds Super shine Top Poi per quanto riguarda Il corpo Allora Mi piace tantissimo Questo spray Questo spray Della bottega verde Che ho portato In vacanza Mi piace troppo Il profumo Limoni Agrumi Limoni Agrumi Limoni Agrumi Ovviamente Non è un profumo È un'acqua profumata Quindi non ha Una durata Non ha una lunga durata Pur troppo Ma Il profumo È davvero Molto Molto Bello Perfetto Per questa stagione Che ne so Tipo emoji O Qualsiasi altra cosa Vi consiglio Insomma Mi piacerebbe Poter farvi assaggiare A non usare Le cose Quindi Siamo In un grande Profumato In acqua Profumata Ci sono anche In altre Altre Profumazioni Però Ho provato Solo questa Prima Poi 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 Ah Ho preso Anche Questi due Paglioschiumar Ma anche Ho provato Oggi Per la prima Volta Questo Ha lo stesso Profumo Dello spray E poi C'è questo Qui Al Magno D'oggio Tonificante Con sali Del marmordo Effetto Rinfrescante Ha un buon Profumo Però Beh Questo Cioè Sono impazzita Per questa Profumazione Quindi infatti Oggi Ne ho provato Un po' Di questo Qui Vediamo Che c'è Dentro Vabbè Vi leggo Quello Raccarezza La pelle Con la sua Soffice Schiuma Regalando Morbido Benessere La speciale Formula È arricchita Con l'estratto Di limoni Di Sicilia Per una Diterzione Ridondante Di Allegria Formula Estata No Estata D'estata Dermatologicamente Tra l'altro Sul sito Pottega Verde Trovate Degli sconti Assurdi Secondo me Sta fallendo Perché C'erano Degli sconti Esagerati E poi Ho preso Questo Scrap Al caffè Verde Questo Per quando Si inizierà A togliere L'abbronzatura Non potete capire Il profumo È bellissimo Lo faccio vedere Anche dentro Comunque Ha una formula Vegetale Scrap Al 100% Fatto Da pulvere Di caffè Deterge Levica Purifica 99% Ingrediti Di origine Naturale Mamma Che profumo Eccola Qui Vabbè Più che altro Vi sto Vi ho fatto dire Che cosa Ho preso Ancora Devo provare Chiuso Però Lo inizierò Ad usare Tra un po' Il profumo È bellissimo Il profumo È bellissimo Che Che Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Stellina voi cosa mi raccontate? Io vi leggo sempre nei commenti, lo sapete? Come sono andate le vacanze? A me molto 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 bene, sono stata benissima, benissima Poi l'ultima cosa che vi mostro sono i vestiti, ho preso tre vestitini prima di partire da chi ce n'è ma non ricordo i prezzi Comunque c'è questo tutto a costine con questo sfondo nero un po' sbiadito e poi ci sono queste roselline rosa su tutto tutto il vestito Questi bottoni sono finti nel senso che si è preso il primo e per me due e arriva alle ginocchia se non è lunghissimo Ed è appunto a maniche corde E ho preso una S Poi c'è questo qui che avrò più fatica a farvi vedere perché è lunghetto Allora il colore è esattamente quello che vedete, proprio esattamente lui Con queste bretelline, anche questo a costine, però molto più lungo E' uno spacco laterale Ecco E la particolarità oltre allo spacco è dietro Un po' difficile da farvelo vedere, comunque è fatto in questo modo Vedete? Ha questo scollo A questo scollo così Vabbè il fiocco è spostato, dovrebbe stare in mezzo Vabbè, scollo Vabbè comunque la luce non aiuta come al solito Comunque è scoperto un po' dietro la schiena, è molto molto bello e comodo E poi c'è questo qui che è molto molto semplice, di questo colore grigio toposcuro E' il tessuto a jersey Questo era lunghissimo, lunghissimo e immettibile per me Mi arrivava sotto i piedi e l'ho fatto accorgere dal zardo Eccolo, è molto semplice Bello, è comodo, è semplice come mi piace a me E poi mi stavo dimenticando Per quanto riguarda gli accessori Ho indossato spessissimo questi orecchini che sono di Anna Luisa Ve li riesci a vedere in un video E poi E poi Questo braccioletto E' un mio entri, me l'ha regalato mia madre E l'ho preso da un indiano sulla spiaggia Mi piaceva tantissimo, ho pagato 10 euro No, no, sono di quel... Sono tipo di acciaio, sì, d'acciaio E infatti l'acqua non si è rovinato per niente Mi piace tanto, tanto Vedete? Troppo bello Vedete? Troppo bello Vedete? Eccolo Mi piace tanto, tanto Diversi colori E in testelline questo è tutto Io vi saluto Augurandovi Una dolcissima Dolcissima, dolcissima Buonanotte Buonanotte Un bacio grande Grande, grande, grande Fate pesanti Himete Grazie